questa mattina in apertura del consiglio comunale convocato nella storica sala dei baroni al maschio angioino per una seduta solenne dedicata alla giornata cittadina per la sicurezza sul lavoro il sindaco di napoli si è soffermato sulle tragiche circostanze che ieri hanno riguardato prima il crollo di un edificio alla riviera di chiaia e successivamente l'incendio che ha distrutto gran parte di città della scienza ringraziando anzitutto i vigili del fuoco di napoli caserta ed aversa che hanno continuato a lavorare senza sosta pur tenendo conto delle gravi condizioni di pericolo ripartire ed il mio compito in questa fase così delicata per la città è quella di aprire aprire al contributo delle forze sane democratiche che amano questa città per fermare il passo alle forze del male che ci sono in questa città e soprattutto per lanciare uniti non solo un appello di grande lavoro grande dignità e grandi cose che si cercano di fare ma anche un appello al governo che verrà se ci sarà a quelli che ci dovranno comunque ascoltare dare una mano perché napoli abbiamo detto più volte è stata abbandonata e tante cose le puoi fare se hai delle risorse quello che è veramente drammatico della giornata di ieri è questa riflessione cioè di una napoli che da un lato ha riacquistato in questi mesi dignità che ha tolto diciamo quell'immagine mortale dell'immonezza che la soffocava però è una napoli oggi ferita dalla miseria dalla povertà anche dalla rabbia delle persone di non riuscire a vedere raggiungere come dire dei risultati di efficienza in una città che è una delle più importanti d'italia quindi noi dobbiamo stringerci a napoli tutti le fa la parte sana per fare sempre di più e meglio riconoscere anche le cose che non sono andate bene per quanto mi riguarda fare anche autocritica su alcuni punti respingere le forze del male perché molte cose che stanno avvenendo sono dolose e poi con grande forza chiedere anche qualcosa in più perché noi ci dimentichiamo che che senza risorse una città che ha un dissesto idrogeologico di queste proporzioni lo vediamo piove e si aprono le voragini piove si deve sgomberare un palazzo ai quartieri spagnoli è una situazione molto difficile molto seria non è che uno ha lanciato degli allarmi così tanto per fare qualcosa noi le responsabilità ce le pigliamo più di lavorare 24 ore al giorno non sappiamo fare io sto riflettendo molto su allargare la squadra nel senso abbiamo bisogno di più braccia le braccia che ho visto ieri lavorare alla riviera di chiave sono le braccia per la città su questo io mi impegnerò moltissimo nelle prossime ore stando molto attenti perché in questi momenti si vogliono poi infiltrare persone che magari vogliono il male di napoli o cercano di approfittare di alcuni momenti per fare delle cose brutte quindi adesso cerchiamo di concentrarci sulle cose sulle cose importanti perfezionare le cose che non sono andate migliorare ma insomma non manteniamo la testa sul collo